Da sempre luglio è uno dei mesi cardina della stagione MLB, un po' perché si è arrivati all'All-Star Game e quindi si comincia veramente a giocare sul serio, un po' perché c'è la 3 Deadline e dunque ci sono i colpi più importanti di mercato da registrare per capire chi effettivamente è ancora una squadra che potrà contendere i play-off della stagione 2021 e chi invece ha dato persa la stagione preparando evidentemente un percorso di rifondazione. È stata una 3 Deadline veramente spaziale di bomboni incredibili che andremo logicamente a riassumere, ci concentreremo in particolare sugli arrivi che hanno scosso veramente il mondo di noi tutti appassionati di baseball perché veramente soprattutto due o tre squadre hanno veramente smantellato e hanno ceduto veramente i pezzi più pregiati a squadre che effettivamente possono essere dei contender per questi play-off. Ci concentreremo non sulle trade in quanto tali ma proprio sugli arrivi dei giocatori fondamentali per le speranze di play-off di molte delle squadre che vedremo coinvolte. Dunque sarà un podcastone della MLB Review molto lungo, dunque dividerò il video evidentemente in due parti. La prima parte dedicata alle trade e ai grandi arrivi che ci sono stati di cui logicamente faremo un commento e poi parleremo anche di baseball giocato perché evidentemente la stagione va avanti ci sono delle cose da segnalare oltre che aggiornare ovviamente tutte le classifiche e tutte le statistiche evidentemente. Però parliamo delle trade, parliamo della 3 Deadline dell'ultimo gioco di mercato ufficiale per quanto riguarda la MLB 2021, è stato il 30 di luglio ebbene il 30 di luglio è andato da segnare sul calendario perché io non mi ricordo a memoria così tanti spostamenti potenzialmente decisivi e di nomi soprattutto importantissimi, soprattutto per una squadra che batte bandiera di Chicago ma ovviamente ne riparleremo a tempo debito. Due o tre squadre hanno smantellato i Caps, Washington, anche i Pittsburgh Pirates soprattutto però Washington e Caps hanno dato spettacolo nel mercato in senso contrario ovviamente per i loro tifosi ne beneficeranno però tante altre squadre tra cui anche i miei New York Mets. Ma andiamo per ordine, concentriamoci però su alcune squadre che appunto hanno avuto il record perdente che hanno deciso di mandare a sud diciamo la loro stagione, in particolare parliamo di Washington che è quarta nella NL East con 49 vinte e 57 perse dei Caps appunto che smantellano di fatto quella che fu la grande squadra del 2016 che ha vinto il titolo in sette partite contro gli Indians dopodiché ci sono anche altre squadre che hanno piazzato qualche colpo qua e là in particolare nella American League Minnesota su tutte e andiamo con ordine adesso a evidenziare ogni colpo possibile e immaginabile di queste squadre che hanno ceduto veramente i pezzi pregiati. Già i primi segnali però di questa deadline molto movimentata si erano visti qualche giorno fa a partire dalla ultima settimana di luglio come detto appunto decisiva per il mercato MLB e il primo colpo riguarda una squadra che da tempo in realtà ha dato a sud la sua stagione ovvero i Pittsburgh Pirates che hanno ceduto ai San Diego Padres Adam Frazier che comunque per i Pittsburgh Pirates ha fatto una stagione molto molto importante tanto è vero che insieme a Brian Reynolds è stato eletto All-Star eppure nella squadra titolare della National League nella Parola delle Stelle del Midsummer Classic che si è svolto a Denver Colorado. Per San Diego sicuramente quella di Adam Frazier è una presa molto molto importante. Adam Frazier è un interno, gioca in seconda base ed è una presa molto importante per rafforzare probabilmente uno dei pochi ruoli che era forse scoperti dei San Diego Padres tanto è vero che adesso con l'arrivo di Frazier i Padres hanno un diamante interno tutto di All-Star ed è una cosa veramente incredibile segno che comunque la formazione di San Diego California vuole evidentemente puntare anche una volta ai playoff e vuole averla meglio di altre due squadre molto molto toste come i Giants ma soprattutto i Dodgers che hanno fatto due colpi veramente allucinanti ma ne parleremo. Il diamante interno dei San Diego Padres adesso è così composto. In prima base Jake Cronenworth che era All-Star presente ovviamente a Denver Adam Frazier di cui abbiamo appena parlato. In terza base Manny Machado che anche lui era un All-Star in questa stagione e in interbase. Neanche a dirlo. Fernando Tatis Jr addirittura a titolare lui nel All-Star Game segno che comunque San Diego fa le cose in grande e vuole prevalere in questa National League West che sembra oltremodo competitiva con tre squadre mentre Colorado e Arizona obiettivamente sembrano tagliate fuori Arizona a proposito fa un colpo in uscita per la gioia dei Milwaukee Brewers perché Eduardo Escobar l'unico All-Star di quella formazione di relitta che è quella di Phoenix si trasferisce appunto dall'Arizona al Wisconsin perché Escobar va ai Milwaukee Brewers e pronti via nella prima partita contro i poveri Pittsburgh Pirates Eduardo Escobar l'ha sparata fuori per salutare così i tifosi di quello che un tempo fu il Miller Park adesso ha un altro nome per motivi di sponsorizzazione ma comunque anche Eduardo Escobar in seconda base è un ottimo colpo per una formazione di Milwaukee che in realtà non è messa benissimo soprattutto dal punto di vista delle persone a disposizione perché Christian Jelic uno degli giocatori più importanti dei Brewers è risultato positivo al Covid-19 ma comunque rientra in questa settimana è una notizia di poche ore fa che Josh Shader il closer con la C maiuscola della MLB è anche lui messo in rista infortuni per quanto riguarda il Covid e dovrà saltare quantomeno la quarantena obbligatoria e poi il primo tampone negativo per poter rientrare in gioco e comunque una squadra dei Milwaukee che come vedremo poi nella classifica della seconda parte del video è sempre più al comando della National League Central ed evidentemente un colpo utility come del grande veterano Eduardo Escobar può assolutamente servire un'altra squadra che ha fallito la stagione e che di conseguenza ha subito venduto due pezzi molto pergiati è Minnesota, i Twins hanno veramente cannato i primi due mesi di stagione con una partenza veramente orrenda e non avranno praticamente più chance per risollevarsi tant'è vero che appunto ci sono già delle eccessioni molto importanti il primo è uno di un grande veterano Nelson Cruz che va a rinforzare i Tampa Bay Rays loro sì che sono contender per questi playoff i Rays dovranno cercare di battere i sorprendenti Boston Red Sox al primo posto della American League East e dovranno di conseguenza poi difendersi qualora non dovesse riuscire ad aumentare il primo posto per un posto wild card Nelson Cruz è un grandissimo veterano ormai da anni gioca soltanto in American League perché oramai è deputato a fare soltanto il designated hitter a 41 anni comunque Nelson Cruz sa dare ancora una volta il contributo abbiamo visto in questa stagione con Minnesota con praticamente 20 fuoricampo e anche presenza allo star game di Denver e poi si è presentato giustamente bene ai tifosi del Tropicana Field con un altro super pepi segno che appunto una mazza esperta può servire in una squadra tendenzialmente molto giovane come i Tampa Bay Rays di Kevin Cash comunque questo era un altro colpo importante anche questo molto utile per il sistema dei Tampa Bay Rays che comunque rimangono sempre una delle belle squadre da vedere specializzata prevalentemente però sul lancio dei giovani ma comunque il grande apporto di Nelson Cruz può dare una mano alla formazione di San Petersburgo il Minnesota che poi ha fatto un'ulteriore cessione questo qualche giorno dopo Nelson Cruz ovvero quella del giocatore di Porto Rico Jose Berrios che un tempo era il lanciatore migliore della rotazione dei Twins era partito male in questa stagione per poi riprendere statistiche più accettabili li vediamo qui 8 vinte, 5 perse, 3.31 di media array quindi molto buona eppure l'inizio stentato della sua prestazione diciamo in questa stagione ha anche causato un po' la dipartita dei Minnesota Twins in questa stagione eppure è un giocatore che è appetito da molte squadre lo è stato e va a rinforzare il monte di lancio dei Toronto Blue Jays che anche loro sono una squadra che può puntare al playoff non però per via diretta visto che probabilmente Tampa Bay Rays e Boston Red Sox sembrano inavvicinabili quantomeno in questa fase i Toronto Blue Jays potrebbero puntare a un posto wildcard per poi giocarsi lo spareggione nel wildcard game contro appunto l'avversaria dell'American League Berrios comunque va a puntellare un monte di lancio che non è un monte di lancio di eccellenza per quanto riguarda i canadesi ma comunque può contare su un attacco stratosferico in particolare su quei giovani terribili che sono Vladimir Guerrero Jr. in primis ma anche Bo Bichette in secundis ci sono poi anche altri giocatori di spessore come Teoscar Hernandez e anche ovviamente George Springer che peraltro è rientrato dall'infortunio in tempi recenti George Springer colpo fantastico questo però è avvenuto nella off-season della stagione scorsa è comunque un movimento di mercato questi che abbiamo visto nei primi giorni che appunto davano già segnale di una grande bomba e di grandi bombe che sarebbero arrivate evidentemente nei giorni successivi e qui arriviamo al succo di questa parte del video per quanto riguarda l'EtherTainer abbiamo parlato di squadre evidentemente compromessi in questa stagione Pittsburgh, Minnesota, Arizona squadre che obiettivamente non hanno diritto di cittadinanza in questa stagione MLB nella speranza però che in futuro possano risollevarsi e tornare logicamente ai fasi di un tempo ci sono però due formazioni in particolare che hanno probabilmente dato spettacolo in un senso e nell'altro dipende ovviamente dai punti di vista se siete o meno tifosi di Nationals e Cups perché appunto queste due squadre soprattutto i Chicago Cups hanno fatto sfracelli letteralmente di quella squadra che fu campione nel 2016 ma partiamo da un'altra squadra che aveva la stagione definita compromessa l'abbiamo vista prima ovvero i Washington Nationals tre colpi in uscita per la formazione capitolina in direzione di squadre contendenti il primo è questo partiamo dal colpo magari meno altisonante che però è un ottimo contributo quello di Kyle Schfarber che nasce come catch che inizia carriera per i Cups va a giocare esterno poi con l'arrivo di Joe Maddon nella formazione della Windy City dopodiché si fa male rientra come DH nelle World Series vince le World Series e poi prosegue come battitore disegnato eppure Kyle Schfarber in questa stagione era una delle poche mazze promettenti insieme a Anthony Rizzo del Chicago Cups dal punto di vista offensivo 25 a fuoricampo 53 RBI di certo non sono statistiche oggettivamente da buttare via per un giocatore che appunto qualche anno fa era rentato da un infortunio grosso e poi non si era mai ripetuto sui livelli di inizio carriera qui invece con questi numeri buoni ha attirato le attenzioni dei Boston Red Sox che vanno dunque ad avere un posto in più per quanto riguarda il posto esterno Kyle Schfarber dunque si trasferisce in un colpo meno altisonante di certo ma comunque importante rispetto agli altri due che andiamo a nominare perché anche qui ci sono due cessioni fondamentali dei Washington Nationals che ufficialmente smantellano la squadra ed è il doppio arrivo di Trey Turner e Max Scherzer ai Los Angeles Dodgers e partiamo da Trey Turner interbase di ruolo principale ma può giocare anche esterno è un utility player e di qualità il giocatore classe 93 nativo della Florida era uno dei pezzi pregiati probabilmente uno degli uomini franchigia dei Washington Nationals con cui peraltro ha vinto il titolo nel 2019 eppure Washington nonostante una quarta posizione è una division non così competitiva perché come vedremo poi nelle classifiche la division della National League sezione est non è proprio la più competitiva dell'otto anzi probabilmente sarà già tanto appunto nella migliore delle ipotesi che ci sia una wildcard ma la vedo veramente dura visto che ci sono tante squadre differenti da quella in classifica al primo posto ovvero i Mets che hanno un record superiore alle altre squadre della division vedi per esempio Philadelphia vedi per esempio Atlanta Trey Turner è una presa spaziale per gli Los Angeles Dodgers che hanno già una squadra di proporzioni astronomiche sulla carta sia come nomi a roster sia evidentemente come payroll ma evidentemente non basta perché in questa metà di stagione i Dodgers non hanno riuscito a vincere contro i Giants e non li hanno scavalcati logicamente in classifica e di conseguenza c'è bisogno di puntellare altri ruoli puntellare soprattutto l'Interbase con Trey Turner ma anche il Monte di Lancio in particolare con il colpo dei Los Angeles Dodgers ovvero il grande veterano Max Scherzer che evidentemente non ha più i numeri imbattibili di qualche anno fa di quando era al prime della carriera ma comunque anche quest'anno sono cifre di assoluto rispetto per Scherzer 8-24 pers e 2-76 di media E-Array o PGL chiamatela come volete per quanto riguarda il giocatore veterano oramai denominato Brown Eye per via della sua eterochromia è un colpo importante sia a nome per quanto riguarda Scherzer sia per rendimento e sia soprattutto di utilità perché ai Dodgers manca di fatto un lanciatore che è Trevor Bauer Trevor Bauer è stato sospeso per il momento come ultime notizie abbiamo fino al 6 di agosto per delle violenze per delle aggressioni per il quale la MLB ha aperto un procedimento disciplinare e di conseguenza per via precauzionale Bauer è stato allontanato dalla squadra e messo in lista diciamo di sospensione fino a che non ci sarà la risoluzione di questo caso abbastanza spinoso che vede appunto coinvolto Bauer e dunque per tutelarsi e alla faccia di tutelarsi i Los Angeles Dodgers hanno comprato Max Scherzer dai Washington Nationals e questo è un colpo fondamentale per la road dei Los Angeles Dodgers per confermare il titolo vinto nel 2020 in quel di Texas contro il Tampa Bay Rays in quel di Arlington meglio ma comunque stato del Texas questo è uno dei colpi clamorosi di questa 3D del 2021 che ha veramente fatto saltare dalla sedia me e tutti gli appassionati della MLB in Italia e non solo ma non sarà l'unico perché appunto come abbiamo già accennato più volte una formazione di Chicago i Chicago Cubs hanno smantellato la squadra con colpi che hanno fatto anche male al cuore di tanti tifosi Cubs in giro per l'Italia e non solo prima però dobbiamo fare un intermezzo perché è vero abbiamo parlato di Washington e abbiamo parlato anche di altre squadre accennato dei Cubs ma dobbiamo parlare di un altro colpo molto importante in direzione New York Sponda Yankees perché Gioigallo che è tornato ad altissimi livelli dopo il grande impatto che ebbe nel 2015 uno dei pochi giocatori di riferimento dei Texas Rangers altra squadra che di fatto ha chiuso in anticipo la sua stagione smantellando i pezzi pregiati è andato appunto nelle Bronx all'Union Stadium per ricoprire un ruolo di esterno destro obiettivamente quello dove l'abbiamo visto in questi ultimi anni con statistiche di tutto rispetto la media battuta è vera non è altissima la vediamo 216 ma Gioigallo è noto per essere uno dei battitori di potenza più devastanti e più importanti di questa Lega tanto è vero che appunto di questa media battuta bassa possiamo però calcolare 25 fuori campo che sono veramente un'enormità ed è per questo che i Bronx Bombers notoriamente hanno preso Gioigallo un po' per coprire un buco all'esterno un po' per un rendimento offensivo sopra la norma e sopra obiettivamente la media per quanto riguarda il giocatore nativo di Henderson Nevada un contributo che dovrà risollevare gli Yankees che come vedremo dalle classifiche non sono diciamo in testa alla classifica ma navigano un po' della terra di nessuno ma gli Yankees hanno deciso di non vendere ma di essere dei compratori per provare a rincorrere il post away card dei playoff della American League East finita la premessa dei Texas Rangers e dei Washington Nation dobbiamo concentrarsi sui Chicago Caps perché i Chicago Caps hanno fatto veramente lo smantellamento nel senso più letterale del termine tantissimi pezzi pregiati di coloro che vinsero il titolo nel 2016 sono andati nelle squadre che adesso sono delle contender per i playoff e soltanto in questa sessione di mercato in generale in questa third deadline i Caps ha assoluto sei pezzi sei giocatori a diverse squadre e adesso li vediamo uno a uno partendo magari dal meno importante si fa per dire fino al colpo in assoluto e chi segue l'MLB in questi giorni sa sicuramente a che colpo mi sto riferendo partiamo però da quello che è stato anche il primo in ordine cronologico ovvero Jock Peterson che dopo di fatto sei mesi ai Chicago Caps va ad Atlanta a rafforzare i Braves che sono al momento terzi nella National League East Jock Peterson ha fatto diciamo la prima parte della carriera ai Los Angeles Dodgers per poi girare tante squadre in questa stagione aveva iniziato nei Caps appunto come esterno e ha fatto comunque una buona stagione per le sue potenze anche Peterson è un battitore di potenza ha una media battuta che non arriva ai 250 ma comunque treci fuori campo sono molto molto importanti per Peterson che va a rinforzare un reparto esterno degli Atlanta Braves che ha bisogno comunque di esterni visto che il giocatore più rappresentativo di questo campo e non solo ovvero Ronald Acuna Junior si è spaccato il crociato e di fatto ha terminato in anticipo la sua stagione e dunque serviva come il pane un esterno che potesse comunque fare il lead off perché Peterson gioca in questa posizione del line up quindi prima in battuta e che possa garantire non dico la potenza di Acuna che comunque è di livello superiore a Peterson ma può garantire potenza e continuità in battuta e appunto Peterson è qui per questo 244 dicevamo le sue statistiche 13 fuori campo e 48 RBI per il nativo di Palo Alto California questo era soltanto però il primo segnale di disfaccimento totale dei Chicago Cups il secondo segnale è stato la cessione del closer dei Cups Craig Kimberler che di fatto rimane a Chicago ma cambia sponda perché si trasferisce a quello che è il Kaminsky Park o US Cellular Field dalla parte sud di Chicago che quest'anno è veramente sul pezzo e veramente può puntare a tornare al playoff a differenza dei cugini che invece hanno compromesso la loro stagione Craig Kimber di fatto si sposta dai Cups ai White Sox ed è assolutamente un colpo fondamentale per una squadra che comunque ha fatto metà stagione con dei pezzi fuori per infortunio vedi per esempio Heroic Jimenez che peraltro è tornato con fuoricampo ma anche la macchina Luis Robert fuori in IL60 per tantissimo tempo stanno tornando adesso e di conseguenza attenzione a maggior ragione ai Chicago White Sox che già sono forti così figuriamoci con il ritorno di Jimenez e Robert ma anche con l'arrivo di Craig Kimbrell che ha queste statistiche in questa stagione 2-23 perse ma vittorie sconfitte in questo caso sono poco indicative perché la media IRA o PGL è fotonica 0,47 per Craig Kimbrell 23 salvezze sono un numero assolutamente considerevole per uno che potrebbe essere canato secondo me al titolo di closer dell'anno o rilievo dell'anno in generale perché sono statistiche assolutamente dominanti di quando Kimbrell regnava di fatto per gli Atlanta Braves quando però purtroppo non erano gli Atlanta Braves che andavano ai playoff con una certa continuità come magari questi ultimi anni Kimbrell poi è andato anche ai Boston Red Sox dopo Atlanta e ha vinto il titolo a memoria nel 2018 fatto sta che adesso è tornato a quei livelli e per i White Sox è un colpo assolutamente fondamentale e adesso però dobbiamo passare ai colpi fondamentali ai colpi che probabilmente faranno più male ai tifosi dei Cubs perché come ho accennato più volte e lo ripeto ancora una volta c'è stato diciamo lo smantellamento definitivo c'è stato l'addio delle tre colonne portanti del titolo del 2016 a cominciare da quello che fu il terza base quel futuro crack tanto annunciato all'epoca nel suo esodo del 2015 c'è stato l'addio di Chris Bryant che va detto che dopo quel titolo vinto nel 2016 non è mai riuscito in realtà a replicare quei livelli che aveva dimostrato nei primi anni e da qualche anno va detto che era sempre sulla graticola ogni threat deadline ma è sempre rimasto alla fine ai Chicago Cubs va detto che Bryant è in scadenza l'anno prossimo e quindi un anno solo di contratto probabilmente era una condizione migliore per mandare Chris Bryant in un'altra squadra e se ne sono approfittati si fa per dire i San Francisco Giants contender fino alla fine per questa stagione 2021 per i playoff è un colpo molto importante per la formazione della California che deve contendere evidentemente ai Dodgers tutti i divisioni e di conseguenza accesso diretto ai playoff e per quanto competitiva sia la National League East è abbastanza evidente che la wild card uscirà tra la seconda e la terza di questa divisione spettacolare che ci riserverà emozioni fino alla fine della stagione regolare Chris Bryant adesso non gioca più in terza base ma gioca all'esterno sinistro comunque è un giocatore molto importante che comunque ha delle statistiche importanti seppur non siano devastanti come magari gli anni precedenti 266 la media battuta è buona 19 fuori campo sono un numero rabbagordevoli ci sono anche 52 RBI per il nativo di Las Vegas Nevada che veramente fu annunciato come il potenziale fenomeno dei Chicago Cups dell'intero MLB uno dei giovani terribili che doveva evidentemente creare una dinastia in questa Lega le aspettative sono state rispettate fino a un certo punto e adesso dopo anni a Chicago ben sei Chris Bryant si trasferisce ai San Francisco Giants per dare una mano in maniera offensiva e anche difensiva per la road dei San Francisco Giants ai playoff dopo la dinastia che i Giants stessi crearono tra il 2010 e il 2014 sono contento anche io personalmente di un altro colpo che però è arrivato dai Chicago Cups ed è quello del Mago Javier Baez anche lui ha deciso di lasciare Chicago questo è un colpo che è arrivato di fatto all'ultimissimo momento del 30 di luglio Javier Baez va ai New York Mets a formare una coppia con il suo connazionale Francisco Lindor Javier Baez sarebbe di fatto un interbase ma il ruolo ai Mets è ampiamente coperto dal suo connazionale Lindor di conseguenza non mi stupirebbe che appunto o Javier Baez va a riciclarsi tra virgolette in seconda base o in terza base oppure ci potrebbe essere un'altra opzione spostare Lindor dall'interbase alla terza mettere Baez in interbase e mettere McNeil o JD Davis in un altro ruolo del campo interno un ruolo che i Mets evidentemente hanno bisogno comunque di coprire perché dopo la squalifica di Robinson Cano per almeno un anno causa doping il seconda base è sempre stato un ruolo un po' diciamo senza letteralmente un padrone ci ha provato Davis ci ha provato soprattutto Jeff McNeil vedremo come si muoverà la dirigenza dei Mets per piazzare il seconda base evidentemente come ruolo definito va detto che comunque tra l'off season scorso dove appunto i Mets hanno preso Lindor e questo investimento su Baez evidentemente è chiaro il segnale che i Mets vogliono dare lo strappo decisivo in una division come dicevo prima non competitiva come la National League East e lo vedremo con calma nelle classifiche è un colpo che mi ha sorpreso questo di Javier Baez da tifoso sono obiettivamente onesto con voi è un colpo però che è molto importante un po' per know-how dell'atleta un po' per anche il contributo che può dare El Mago un contributo anche offensivo perché sono 23 fuoricampo stagionali a fronte di 77 RBI e una media battuta di 246 ma anche difensivamente soprattutto El Mago può fare veramente la differenza appunto in ruoli dove evidentemente c'era bisogno di puntellare io mi aspetto evidentemente che Baez finisca in terza che è un ruolo molto importante per quanto riguarda i New York Mets vedremo alle prossime partite quando lo vedremo in opera cosa riserverà la formazione dei Mets in particolare l'aneratore Luis Rocas ma il colpo che probabilmente fa un po' più male ai tifosi dei Cubs è la cessione di Anthony Rizzo l'italo americano è stato ceduto anche lui e come Joe Gallo va in direzione New York Yankees Rizzo era la bandiera dei Cubs senza se senza ma tanti anni nella formazione della Windy City anche quando i Cubs evidentemente regnavano all'ultimo posto nella National League Central Rizzo era rimasto appunto per arrivare a vincere il titolo è rimasto anche in questi anni dove i Cubs si è vero sono arrivati ai playoff vedi per esempio l'anno scorso con la formula allargata ma non sono più da tempo la squadra che riuscì a arrivare ai playoff nel 2015 e vince che il titolo nel 2016 hanno un po' arrancato in queste stagioni rispetto ai livelli passati e dunque si è deciso di completare del tutto la rifondazione con un colpo a loro volta sorprendente perché evidentemente io mai mi sarei aspettato che la bandiera Anthony Rizzo si spostasse dai Cubs ai Yankees ma non perché siano gli Yankees ma appunto perché era un colpo difficilmente prosticabile già i Cubs comunque avevano smantellato dicevo due colonne su tre di quella squadra che vinse il titolo e hanno fatto l'opera completa cedendo il giocatore da 16 fuoricampo in stagione 44 RBI e il 154 di media battuta è evidente che da qui in poi i Cubs non saranno un fattore in una National League Central che vede evidentemente il duello tra Milwaukee e St. Louis con Cincinnati terza incomoda va detto però che evidentemente era tempo di rifondare dunque rinizia dopo anni e anni la rifondazione e il tanking per i Chicago Cubs che speriamo possono tornare ai livelli che gli competono nei prossimi anni magari con dei nuovi Bryant, Rizzo e Baez magari trovandoli in alcuni prospetti tra le minors e i draft degli anni successivi è comunque una trade deadline una sessione di mercato che ha fatto veramente sfracelli io veramente non mi ricordo a memoria tanti cambiamenti di casacca negli ultime giornate tanti innesti poi soprattutto molto utili per tantissime squadre che sono in lotta con i playoff e questo è un po' un sintomo del grande equilibrio in generale che c'è nella Lega in particolare però nella National League perché abbiamo visto che gran parte dei colpi sono arrivati in questa Lega perché appunto sono squadre letteralmente più allo stesso livello dunque la division è più competitiva a differenza magari di una American League dove vedremo i record sono un po' più spinti verso l'alto con dei vincitori solitari di division e con dell'equilibrio con le squadre che adattano per le posizioni o di wildcard o che di fatto non contano quindi dal terzo posto in giù e a proposito di baseball giocato andiamo a vedere dunque le classifiche per entrare ultimamente e definitivamente nella seconda parte del video andiamo dunque a riepilogare i record partendo però stavolta dalla National League una National League che appunto in quella division che mi vede coinvolto come tifoso in quanto tifoso Mets vede appunto i miei New York Mets come leader come capoclassifica 55 vinte e 50 perse e già a un primo colpo d'occhio vediamo che in altre division un record del genere sarebbe ampiamente da fuori playoff secondo è la team di Philadelphia i Phillies al 50% pieno di vittorie Atlanta è terza con un record perdente 52-54 Washington nonostante comunque sei partite e mezzo di distanza è quarta con 49 vinte 57 perse e chiude Miami con 45 vinte 61 perse 10 partite e mezzo di distacco dai Mets Miami è un'altra squadra che è in rifondazione ha comunque del materiale molto buono su cui lavorare soprattutto per quanto riguarda il loro monte di lancio ma è evidente da questi record come la National League East un po' come dicevo prima non avrà una wild card nella maggioranza delle ipotesi ma avrà semplicemente il vincitore diretto della divisione mi auguro siano i Mets come qualificata ai playoff per il resto dovrà sperare in un accoppiamento dal wild card game contro appunto quella che sarà probabilmente la vincente tra la seconda e la terza della National League West che hanno dei record molto più alti della National League East stesso discorso si può fare per la National League Central perché c'è il regno di Milwaukee che evidentemente è la squadra più in forma del momento per quanto riguarda in generale la National League 8 vinte due persone nelle ultime 10 per la funzione del Wisconsin per un totale di record di 64 vinte 43 perse ci sono 7 partite e mezzo di distacco sui Cincinnati Reds che comunque stanno facendo una grandiosa stagione e se la stanno lottando praticamente per il post wild card e la classifica wild card la vedremo successivamente per una formazione comunque che ha sorpreso per aver presentato comunque delle potenzialità interessanti in particolare sui due all star che sono arrivati a giocarsi addirittura la titolarità a Denver vedi in particolare Jesse Winker e Nick Castellanos entrambi esterni ci sono i St. Louis Cardinals che sono terzi un po' nella terra di nessuno 53 vinte 52 perse ma distacco dai primi Milwaukee Brewers di 10 partite ci sono i Chicago Cubs di cui abbiamo ampiamente parlato a 13 partite di distacco e hanno fatto letteralmente i venditori di fatto sciogliendo la squadra e ultimi per distacco i poveri Pittsburgh Pirates 40 vinte 66 perse va detto che i Pittsburgh Pirates non sono la squadra peggiore della Lega perché nella National League West ce n'è un'altra ed è la povera Arizona i Diamondbacks hanno un record di 33 vinte 74 perse addirittura con figlio anche di una streak interminabile di partite consecutive perse tra maggio e giugno quarti sono i Colorado Rockies con 46 vinte e 60 perse peraltro i Colorado Rockies hanno tenuto Trevor Story che andrà a scadenza quest'anno ed era uno dei nomi fondamentali evidentemente per la 3D Italy invece Story è rimasto lì nonostante appunto di fatto l'anno prossimo sia un free agent sono 21 le partite di distacco dei Dodgers scusatemi dei Rockies sui Giants terzi sono i San Diego Padres e qui però parliamo di un altro livello 61 vinte 47 perse qui c'è proprio uno stacco tra le prime tre della divisione e le altre due Colorado Arizona appena sopra i San Diego Padres sono i Los Angeles Dodgers che comunque sono una squadra da tenere d'occhio a maggior ragione con i colpi di Trey Turner e Max Scherzer primi però sono i San Francisco Giants con tre partite e mezzo di distacco sulla formazione Los Angelina eppure i Los Angeles Dodgers sembrano lanciati verso la prima posizione in prospettiva perché nella scontro diretto hanno vinto di fatto i Dodgers la maggioranza delle partite i Giants comunque hanno un po' impattato è una sfida bellissima tra queste tre formazioni spettacolo garantito evidentemente in questa National League West San Francisco Los Angeles e San Diego ci regaleranno veramente tanti capovolgimenti di fronte da qui fino a fine settembre giorno in cui finirà la regular season e quindi poi parleremo evidentemente del playoff comunque è evidente che queste tre squadre sono rinforzate e potranno e dovranno competere ancora una volta a questo livello è evidente poi altrettanto come la National League West sia molto competitiva rispetto già alle altre due division perché vedendo i record manco potrebbe puntare a un posto wildcard e dunque logicamente chi arriva al secondo e al terzo posto di questa division verosimilmente avrà il wildcard game ovvero la partita della morte parliamo però di un'altra lega parliamo della American League per quanto riguarda evidentemente i record abbiamo Tampa Bay che è arrivata al primo posto di questa division dopo aver superato i Boston Red Sox nell'ultima serie uno sweep una cosa incredibile fatta dalla formazione di Kevin Cash ha vinto la serie fondamentale per recuperare la prima posizione e dunque sono 64 vinte e tre perse e 43 perse ovviamente scusatemi per il Tampa Bay Rays a una partita di distacco ci sono i Boston Red Sox 63 vinte e 44 perse terzi sono i New York Yankees che appunto hanno rinforzato il loro roster con Gallo e Rizzo 56 vinte e 49 perse ma sette partite ti distacco dai primi Tampa Bay Rays appena sotto ci sono i Toronto Blue Jays che dunque non sono da considerare totalmente morti e totalmente esclusi perché una partita di Yankees si può recuperare è più complicato secondo me recuperare le sette su Boston bisognerà fare la corsa evidentemente alle altre dell'American League chiude Baltimore a 38 vinte e 67 perse ma c'è però una buona notizia perché Baltimore nelle ultime dieci è sette vinte e tre perse in una stagione comunque più che dignitosa per i Baltimore Orioles American League Central l'abbiamo detto i Chicago White Sox hanno ormai messo la quinta e superato la concorrenza 62 vinte e 44 perse e ripeto anche una volta attenzione ai White Sox perché con il rientro di Jimenez e Robert e con l'acquisto di Kimball sono ancora più competitivi soprattutto in ottica playoff secondi sono i Cleveland Indians alla ultima edizione della loro storia con 52 vinte e 51 perse ricordiamo che dall'anno prossimo i Cleveland Indians cambieranno nome in Cleveland Guardians è stato tolto il nickname Indians per diciamo aver considerato razzista o discriminatorio in ogni caso appunto il soprannome Indians rispetto ai nativi americani pelle rossa Detroit è terza 51 vinte 57 perse e Detroit nonostante hanno un record perdente ha comunque una stagione più che dignitosa e oltremodo oltre alle aspettative quarti sono i Kansas City Royals che nella terra di nessuno erano nella terra di nessuno rimangono 45 vinte 59 perse la delusione dell'anno probabilmente è ancora una volta Minnesota che appunto figlia dell'ultimo posto dell'American League Center con un flop clamoroso chiude con 44 vinte 62 perse per il momento il record e ha ceduto pezzi pregiati in attesa di recuperare quel know-how che si era conquistato negli anni passati chiudiamo la storia delle classifiche con l'American League West Houston è prima con 4 partite e mezzo di vantaggio su Oakland 64 vinte 42 perse per gli Astros 60 vinte 40 perse invece per gli Athletics terzi sono i Seattle Mariners che è una squadra di cui non parla assolutamente nessuno eppure non sono domi e riescono a galleggiare ampiamente sopra il 50% e dunque chissà che Seattle non possa con uno sprint finale negli ultimi due mesi agguantare uno storico appiazzamento wildcard sono 7 partite e mezzo di distacco dai Houston Alters bisogna vedere però il distacco della wildcard e lo vedremo quarti sono i Los Angeles Angels che anche loro rimangono una squadra bella da vedere perché c'è Otani e altri giocatori importanti va detto che Mike Trout è in realtà del bancorio orientale ma anche loro rimangono sempre nella terra di nessuno 52 vinte 54 perse per quanto riguarda i Los Angeles Angels e chiudono i Texas Rangers che appunto abbiamo detto hanno ceduto Joy Gallo punteranno tutti evidentemente su Adolis Garcia 39 vinte 67 perse e fanta ultimo posto della American League West ci sono però delle cose molto interessanti da segnalare per quanto riguarda la MLB giocata andiamo a fare una regressione panoramica dobbiamo segnalare visto che abbiamo parlato di American League che i Toronto Blue Jays sono tornati a casa e hanno fatto il nuovo opening home day al Rogers Center in una partita contro Kansas City vinta 6 a 4 dai canadesi che un anno e mezzo dopo aver di fatto trovato le frontiere del Canada chiuse e aver di fatto girato l'America giocando un po' in Florida un po' a Buffalo ma mai in Canada visto che la nazione di Justin Trudeau ha chiuso le frontiere per il Covid-19 alla fine dopo un tanto peregrinare appunto dicevo sono tornati a casa e hanno inaugurato il nuovo Roger Center con la vittoria 6 a 4 con i Royals peraltro segnaliamo che dopo un anno e mezzo il primo fuoricampo al Roger Center lo realizza Teoscar Hernandez al secondo inning su Lynch sedicesimo bei pitone stagionale per quanto riguarda Teoscar Hernandez e anche il diciannovesimo di Bobby Shett su Tapia a rilievo dei Kansas City Royals per una vittoria netta della formazione canadese c'è però un altro giocatore di cui va diciamo fatta menzione anzi in realtà sono evidentemente due uno è il ricevitore dei Chicago White Sox Sebi Zavala americano di Fortwood Texas che di fatto ha esordito pochissimo tempo fa eppure è già passata la storia perché nella prima partita che ha disputato il 31 di luglio ha fatto tre fuoricampo nei primi tre turni di battuta primo giocatore della storia a riuscire a fare questa cosa per la franchigia di Torni la russa e compagni peraltro una partita rocambolesca che hanno vinto gli indians 12 a 11 13 valide a 11 per gli indians un errore a testa partita dove evidentemente le difese erano in pensione il giocatore appunto appena citato Zavala fa una cosa straordinaria tre fuoricampo di cui un grande slam qualcosa di assolutamente straordinario così come è straordinaria la prestazione che ha realizzato il giocatore dei Pitbull Pirates Rodolfo Castro appena chiamato dalle minors della formazione della Pennsylvania è un giocatore che ha già fatto la storia perché è il primo giocatore dal 1901 a realizzare 5 fuoricampo nelle prime 5 valide della carriera e già questo basta i Pitbull Pirates per considerare comunque positiva la loro stagione hanno avuto due all star e non è cosa da poco per una squadra che in teoria è in rifondazione ma che comunque sta ponendo le basi per farla molto bene ci aggiungiamo anche questa cosa importante di Rodolfo Castro e dunque gloria a lui e ai Pitbull Pirates che hanno trovato comunque un buon prospetto su cui lavorare e dunque vedremo se il classe 99 della Repubblica Dominicana avrà ancora spazio in questa zona di MLB soprattutto per gli anni futuri e vedremo se su di lui i Pirates potranno fare la loro rifondazione chiudiamo il podcast della MLB Review con la classifica delle wildcard che adesso dovremo tenere d'occhio da qui fino a fine settembre perché la wildcard è fondamentale per l'accesso ai playoff ricordiamo che chi detiene le due wildcard dovrà sfidarsi in una partita secca sempre di playoff per accedere al tabellone principale della postseason 2021 per quanto riguarda la American League al momento se così finissero le division Boston e Oakland si sfiderebbero per il wildcard game a tre partite di stacco ci sono a pari merito i New York Yankees e i Seattle Mariners appena dietro ci sono i Toronto Blue Jays e poi Cleveland Indians a sei partite diciamo che per il momento non c'è nulla di concluso teoricamente fino ai Los Angeles Angels sono ancora in gioco va detto che già per gli Angels è difficile arrivare al secondo posto della wildcard ma non per il numero di partite di distacco bensì per il numero di squadre da sorpassare e dunque è verosimile che fino a Toronto si potranno giocare questa wildcard va detto che per il record che stiamo vedendo in questo momento bisogna sperare per le squadre dietro a Oakland che appunto Oakland e Boston di fatto implodano e Yankees Seattle e Toronto abbiano delle streak di vittorie consecutive allora la wildcard game potrebbe essere veramente una partita molto ma molto interessante ancora più che adesso vediamo adesso la classifica anche per quanto riguarda la American League al momento finisse così la division la Lega meglio Los Angeles Dodgers e San Diego come detto avrebbero il posto wildcard qui i giochi sembrano veramente più definiti l'unica in corsa probabilmente è i Sissinnati ma certo che far la corsa sui Padres e i Dodgers è veramente dura sono quattro le partite di distacco appunto dai Padres ultimi in questa classifica della wildcard già St. Louis e Philadelphia e Atlanta sono per il momento tagliate fuori appunto va detto però che essendo una division più equilibrata i record sono inferiori e forse più facili risalire rispetto a un'American League dove appunto i valori come abbiamo visto sono un po' più magari spinti verso l'altra in ogni caso ci aspettano veramente tante partite da giocare da qui fino a fine settembre abbiamo superato ormai il giro di bola della stagione e dunque qui i conti si fanno sul serio è qui che nel mese di agosto e settembre vengono fuori le squadre vere e i giocatori veri faremo poi l'ulteriore recap a inizio settembre in attesa di prepararci per il momento che tutti aspettiamo ovvero quella dell'Apple Season di ottobre 2021 dove avremo più video riguardanti la MLB perché parleremo dei tabelloni dei miei pronostici e seguiremo man mano i playoff fino alle World Series che appunto decreteranno il campione 2021 in ogni caso la MLB Review di agosto per quanto riguarda il mio canale sportivo termina qui spero che vi sia piaciuto il tutto e saluto da parte di M.Thorgard e scrivete anche quando l'avete fatto ci vediamo al prossimo video